In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Oggi, prima domenica di avvento, inizia l'anno liturgico. L'anno civile inizierà il primo di gennaio. Entriamo in un tempo forte, il tempo della venuta di Cristo, che culmina con il Santo Natale. Ma ci saranno quattro settimane di forte preparazione perché il Cristo, che è già nei nostri cuori, rinasca e risplenda. Viene Gesù. Tutte e quattro settimane avranno una musichetta di sottofondo, che è questa. Vegliate e pregate, vegliate e pregate. Trasformate ogni realtà in un centro di preghiera. Alla fine direte, che bel Natale! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!